Anche quest'anno il San Valentino a Napoli sarà una festa speciale perché con un calendario di eventi ancora più fitto e variegato torna la notte degli innamorati, la manifestazione promossa dall'assessorato alla cultura con l'Accademia di Belle Arti. Teatro, musica, mostre, visite guidate ed eventi sabato 14 febbraio animeranno la città dal centro alle periferie per celebrare l'amore attraverso la scoperta dei più bei luoghi d'arte e cultura. Sono previste aperture straordinarie dei siti monumentali e promozioni particolari con sconti e domaggi riservati alle coppie. La forza del programma è davvero straordinaria, tant'è che uno dei siti di viaggi più importanti in Italia, Trivago, ci ha indicato per questo San Valentino come la meta più interessante del paese. Organizzato con il contributo delle realtà culturali del territorio che hanno risposto all'invito del comune, il programma di eventi coinvolge circa 60 luoghi e propone 13 itinerari con visite guidate. Si parlerà d'amore anche nelle librerie con un focus sul tema che avrà come testimonia lo scrittore Maurizio De Giovanni. E' mercoledì 11 da non perdere l'Alexio Magistralis del professore Aldo Masullo sul simposio di Platone ed Eros Filosofo alle 17 nel convento di San Domenico Maggiore. E' una delle poche cose che abbiamo, l'amore come la cultura, quindi è giusto che in momenti come questo in cui la città è sotto attacco, la città è vista come un luogo difficile, è vista come un luogo ferito e ferita è la città, noi dobbiamo mostrare anche di avere le nostre piastrine per rimarginare le ferite e quale miglior modo se non il cuore. L'arte di amare può farsi più bella, ricca e coinvolgente se è sostenuta dall'amore per l'arte e questo è il messaggio in particolare che vogliamo lanciare ai nostri giovani, cioè di fare di questa giornata una giornata ancora di più memorabile, innanzitutto perché si vive a Napoli e poi perché vivendola a Napoli si può incontrare lo straordinario patrimonio d'arte e di cultura di questa città. Una collaborazione a 360 gradi che inaugura un percorso che parte con la notte degli innamorati e si completerà poi successivamente il 28 marzo con il Festival del Bacio in una continuità ideale di rapporto che vede questa città un luogo della relazione affettiva, io la chiamerei così, un amore allargato, un amore per la città, un amore fra le persone, un amore per l'arte, un amore per la socialità.